Il Miserere è uno dei salmi della Bibbia, certamente uno dei più celebri. Si dice che sia il modo con cui il re Davide ha chiesto perdono a Dio, certamente è uno dei modi più belli con cui l'uomo può porsi davanti a Dio in atteggiamento di umiltà. La versione di Allegri è soltanto una delle numerosissime che sono state realizzate nella storia della musica, ma è anche una delle più celebri e delle più belle. In parte questa versione deve la sua fama alla rarità delle esecuzioni, perché il manoscritto era considerato una proprietà privata della Cappella Papale, tant'è vero che Mozart adolescente lo trascrisse a memoria. Più ancora di questo è la bellezza di questa musica, la sua compostezza e la sua grande intensità spirituale che concorrono a renderla veramente indimenticabile. Grazie Grazie Grazie